Io ringrazio l'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica per averci dato questa possibilità, perché il Comune di Pianopoli accoglie sempre in maniera molto positiva le iniziative che servono per dare un supporto a chi ha bisogno. Chi soffre di questa sindrome ha dovuto proprio lottare perché venga riconosciuta come tale. Il lavoro fatto da questo gruppo è un lavoro davvero immane e so che sono sempre occupati e presenti sul territorio per far conoscere. La conoscenza porta ad una sorta di possibilità per le persone di capire di che cosa sono affette, perché purtroppo questa patologia è una patologia subdola e molto vasta, nel senso che colpisce in tanti modi. E quindi è necessario che la gente sappia perché è necessario che abbia un appiglio. Ringrazio la dottoressa Scerbo, che è referente regionale della sezione di Lamezia Terme, e ringrazio tutti i presenti per aver partecipato questa mattina all'installazione di questa panchina, che serve, dico sempre io, come post-it per chi passa e la vede e quindi si ricorderà che esiste questo tipo di patologia e quindi saprà che ci sono comunque dei rimedi, delle modalità per superarla. Non si sentirà mai da solo. Grazie a voi. Questo è per lei. Grazie mille. Io invece ringrazio assolutamente il Comune di Pianopoli, ringrazio la dottoressa Valentina Cuda, il nostro sindaco, per aver aderito non solo a questa iniziativa per quanto riguarda l'installazione di una panchina viola sulla fibromialgia, ma per tutte le iniziative che noi abbiamo fatto, come anche l'illuminazione del monumento nella giornata del 12 maggio, giornata mondiale della fibromialgia. Questa è la sesta panchina. Noi vogliamo inaugurare, vogliamo rendere sempre più visibile comunque una sindrome che purtroppo è invisibile, però totalmente reale e concreta, anche perché comunque è una sindrome cronica e invalidante. Ci sono persone come me che magari ancora reagiscono magari a questi dolori, però purtroppo ci sono persone allettate, persone sulla sedia a rotelle, persone che purtroppo hanno perso il lavoro perché determinate problematiche come per esempio la qualità del sonno oppure problemi a livello articolari, perché questa è una sindrome che è muscolo-scheletrica, ma prende anche il sistema nervoso centrale. Significa che i neurotrasmettitori praticamente non svolgono la funzione che devono svolgere e quindi noi abbiamo sbandamenti, mancanze di memoria, mancanze di stabilità. Quindi come si capisce è una sindrome che è vasta, infatti va curata a 360 gradi. Noi siamo presenti alla Mezzia Terme, all'ambulatorio numero 19, ogni giovedì dalle 10 alle 12 per accogliere tutte le persone che soffrono di fibromialgia, ma non solo, anche le persone che vogliono capirne di più e vogliono comunque stare accanto e comprendere la persona che ne soffre perché purtroppo non siamo molto tutelate, molto capite sotto questo punto di vista. Concludo ringraziando tutte le persone che hanno partecipato, ringrazio di nuovo il nostro sindaco di Pianopoli Valentina Cuda e sicura di una nostra successiva collaborazione, le auguro una buona giornata. Grazie.